segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te erdogan ha fatto una scelta la scelta iniziale era quella di collocarsi come mediatore un po in modalità ucraina ricordiamo quello che ha fatto erdogan per l'ucraina e cioè sostegno all'ucraina sostegno militare all'ucraina fino a fornire i droni che hanno costituito l'elemento fondamentale all'ucraina per potersi difendere e però mai applicare le sanzioni nei confronti della russia il questo gli ha fatto guadagnare un ruolo internazionale certo i corridoi per il grano li ha fatti erdogan poi le nazioni te hanno firmato la colpa li ha fatti erdogan questo non è una cosa banale perché lui con questo ruolo internazionale ha vinto le elezioni in turchia la turchia al momento del voto c'aveva l'ottanta per cento di inflazione l'ottanta per cento in europa con l'otto per cento eravamo le macerie del terremoto eravamo nel panico 20 mila morti per il terremoto e lui ha vinto le elezioni convincendo i turchi che il suo ruolo internazionale era la migliore garanzia per il popolo turco nel momento in cui quel ruolo non può più farlo di mediatore per una ragione semplice perché c'è un amico inevitabile che si chiama qatar che gli ha preso il ruolo e per evidenti ragioni perché più capace di condurre la mediazione più capace di influire direttamente sua massa a quel punto erdogan si è sganciato ed è ritornato tra virgolette capo popolo e il capo popolo è quello di mettersi alla guida delle piazze arabe e queste piazze arabe